... ehi, ehi, go now, go che bello, sta mangiando, dai, buoni che bello ehi, 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 oh, 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 vuoi che sta facendo ehi, voglio mangiare l'anatra Dici? oh no ma lui fa così perché vuole mangiare lui tante cose capito madonna ma quel povero natrappolo c'ha un'ala tutta l'hanno passato io ho provato a raccontarne uno, mezzo, due ma forse ciao bette ciao bette ciao bette ciao bette ciao shock 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 no 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 giovanna basta non li scalciate una volta lo vedete è andato con questo qua avete visto quello che stiamo andando di là avete visto quel cigno la quel cigno che è ancora un piccolo c'ha un'ala tutta rotta poverino quale? quale? ecco la ritirata per tutti il sole è andato via quando il sole va via tutti via penso che in Egitto andrà via alle quattro e mezzo alla fine cambia allora ci avevano quasi pensato bravo cioè fino all'ultimo ci ha perduto ma diversi paesi l'hanno abolita non si fa pure la spagna poi ha maggior ragione con questa crisi che c'è non è voluto ma cosa vuol dire accendere una ventina luce? esatto dai ragazzi dai ragazzi guardo 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 quale è l'idea? e ecco ecco ecco